cari amici benvenuti a questa nuova edizione dei saggi online della scuola di musica del garda oggi vi presentiamo un bellissimo saggio il saggio di violino della maestra cecilia maruelli e quindi vi lascio a questo concerto che sarà sicuramente bellissimo e appassionerà tutti gli appassionati anch'io sono sempre stato appassionato e interessato dal violino il violino è sempre stato qualcosa che mi ha veramente attratto sempre moltissimo grazie a tutti 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 grazie a tutti